Ciao a tutti ragazzi, continuo a parlare di Luigi Ghirri perché io vado un po' a sensazione e quando non vedo risposte su alcuni autori che secondo me sono fondamentali, ecco che allora penso che sia doveroso un approfondimento da parte mia, soprattutto su quegli autori che mi sono studiato abbastanza approfonditamente. Quindi oggi facciamo un video diverso dove io cerco di spiegarvi il senso delle immagini di Ghirri, almeno di alcune, chiaramente è una mia visione personale perché non potrebbe essere diversa da così, però diciamo che alcune teorie che io ho tirato fuori dalle foto di Luigi Ghirri non sono soltanto le mie, insomma in tanti hanno detto queste cose qui. Partiamo da questa immagine, allora voglio prima premettere che tutto questo discorso nasce dalla risposta che io ho sul gruppo, io utilizzo il mio gruppo Facebook come indicazione, ci sono delle cose alle quali le persone immediatamente rispondono, alcuni autori, alcune foto, altri dove sono un po' più resti e capisco che non commentano o non dicono per non sembrare saccenti, però sono sicuro che chi vede le foto di Luigi Ghirri molti dicono ma che è sta roba la facevo anch'io, perché è così, è questo quello che viene da dire soprattutto ai primi tempi e soprattutto quando non si è studiato molto, ma è anche lecito pensare una cosa del genere, salvo poi approfondire e cercare di capire dove in realtà sta la chiave, no? Perché se Luigi Ghirri è famoso e quindi è riconosciuto come un autore importante, un motivo ci dovrà pure essere, no? E noi che fotografiamo magari da poco tempo forse dobbiamo farci delle domande rispetto alla nostra presunta saccenza che troppo spesso vedo manifestarsi, non nel mio gruppo assolutamente, devo dire la verità. Comunque, guardate per esempio questa immagine, uno dice vabbè è un cancello aperto con la nebbia, una prima lettura è molto semplice, no? Questo senso di mistero, questa apertura sul mistero, però c'è un particolare che rende la foto interessante, a parte la strada davanti con queste macchie, queste strisce gialle che rompono un po' questa simmetria, ma vedete questo palo tagliato, no? E guardate che il cancello non è esattamente al centro perché il palo tagliato ha spostato leggermente il peso dei volumi dell'immagine e quindi questo, da questa parte c'è un po' più spazio che di qua, vedete? Fate caso? Ma perché mettere un palo tagliato? Innanzitutto è una questione proprio di realismo, cioè lui era uno che diceva io fotografo così come l'occhio vede, ma il fatto di lasciare sempre qualche cosa fuori dal fotogramma ci porta, scusate, ci porta ad una lettura che non è solo all'interno dell'immagine, no? Perché chiaramente questa è un'immagine che se la vediamo di impatto potrebbe sembrare su due piani, cioè non avere una profondità, se la guardiamo dopo un po' ci troviamo a camminare nella nebbia, no? Perché questo cancello ci invita e quindi la profondità di questa fotografia non è data da un impianto scenico, no? Fatto dai grand'angoli o da chissà quale struttura, ma è data dalla luce stessa, dal fatto che c'è questa nebbia che ci porta dentro, dentro l'immagine, dentro la profondità di immagine, la terza dimensione non è una terza dimensione visiva, ma è una terza dimensione psicologica, quella di cui vi parlavo ieri. Questa è una dimensione di lettura, l'altra dimensione di lettura è questo palo tagliato, cioè quando noi guardiamo un palo tagliato sappiamo che la foto non finisce qui, c'è una profondità che va dentro e qualche cosa che sta fuori, cioè il mondo non finisce qui, c'è qualcos'altro, l'occhio ci porta fuori dal fotogramma. Questo è un modo per dire che questo quadrato qui è una porzione di realtà che io ho ritagliato, cioè ti sto dicendo, io l'ho ritagliata, fuori c'è il mondo, non finisce qui la foto. Te lo sta dicendo sia in senso, diciamo, di profondità, sia in senso proprio di lettura sulle due dimensioni dell'immagine fotografica tagliando questo palo. Anche se questa foto è piaciuta a molti perché è facilmente riconoscibile in una situazione del genere, a livello psicologico, le foto che piacciono meno sono quelle dove lo stesso concetto è espresso in maniera meno estetizzante. Ad esempio questa, ieri un ragazzo mi ha detto la sua perplessità rispetto a questa immagine, chiaramente non la comprendeva, ma è chiaro, io capisco che uno possa non comprendere un'immagine del genere perché per poter comprendere le immagini di Kiri bisogna aver visto le foto di Kiri per un po'. Però notate questa fotografia, no? Prima di tutto è una foto come l'altra, giocata su due dimensioni praticamente, no? Sono tutti quadrati, un quadrato verde chiaro, un quadrato verde scuro, scusate, un rettangolo verde chiaro, un rettangolo verde scuro e poi c'è il rettangolo delineato dalla porta, no? Però guardate pure qui stesso discorso, esiste una profondità perché noi potremmo essere un giocatore che sta giocando e va verso la porta, quindi la profondità è di nuovo psicologica, non c'è una profondità visiva ma c'è una profondità psicologica. Il fatto che quando noi siamo nel campo tendiamo a tirare o a correre verso la porta, tra l'altro lui che fa? Fa un'operazione che è simile a quella del palo tagliato fuori, quello di spostare leggermente a sinistra l'elemento porta, se questa fosse stata al centro la foto sarebbe finita lì, spostare leggermente a sinistra questa immagine significa il mondo continua da questa parte, l'avete presente? Cioè se io la sposto ti sto dicendo c'è qualcosa più a destra o magari ti sta dicendo io sto spostato a destra e sto andando verso la porta, ci fate caso? Quindi pensate quanto viaggio può esserci in un'immagine del genere, giocata su tre rettangoli, no? Tra l'altro poi c'è sempre questo utilizzo morbido della luce leggermente desaturata, un po' sbiancata, che dà questo senso poetico, è sempre una situazione annebbiata questa, magari è stata creata proprio in post produzione, vedete come è tutto morbido, non c'è nulla che spicca, quello che spicca spicca perché è un colore più chiaro degli altri, cioè il bianco, ma non è che spicca per una scelta fotografica fotografica estrema, spicca perché la luce era quella, la situazione era quella, quindi la porta si vede da lontanissimo, quindi la scelta è di un'ottica normale, un'inquadratura normale con un leggero decentramento, però è la luce la scelta fondamentale di questa immagine, così come lo era di quest'altra. Fotografare per esempio questo cancello a mezzogiorno probabilmente avrebbe avuto tutto un altro effetto, andiamo a vederne un'altra. questi sono i suoi interni, anche qui uno potrebbe dire, si vabbè, che significa? Guardate i tagli, guardate la panchina come è tagliata e come è tagliato per esempio questa porzione di vetro, notiamo per esempio che ci sono dei quadri attaccati, questo quadro addirittura è tagliato a metà dalla parete, c'è tutta questa sensazione che rimanda al fatto che deve esserci qualcos'altro nella stanza, non c'è una porta per esempio, quindi noi immaginiamo che la porta sta dove stiamo noi. Questa panchina tagliata mi fa capire che c'è un'altra gamba della panchina qui, ma poi qui i quadri ci sono, c'è la porta, che cosa c'è qui sulla destra? Tagliare questo e questo significa dare un bilanciamento all'immagine, no? Ma farmi capire che l'immagine prosegue. Vedete che io, se guardo, se mi concentro sul taglio in alto, vedo questo soffitto continuare sopra di me, se fate caso. Se io vedo questo quadro qui, probabilmente ne immagino un altro qui. Se io vedo un quadro tagliato qui, mi immagino che ce ne potrebbe essere un altro qui dietro. In più, i giochi di geometrie, rettangoli, questo triangolo fatto dall'ombra, no? Che da questa tridimensionalità al muro, tutti rettangoli. Insomma, sono geometrie che ci fanno dare la profondità, ripeto, sempre psicologica, vedete? Io so che da qui devo arrivare qui, però se guardo l'immagine sembra quasi non esserci, il piano è quasi schiacciato. Quindi c'è di nuovo la profondità, la terza dimensione dentro la foto e c'è anche la terza dimensione fuori dalla foto. Cosa c'è fuori? Notate come queste tre foto diversissime hanno detto la stessa cosa con linguaggi apparentemente diversi. Guardate questa, questa è una delle migliori secondo me. Addirittura qui le geometrie, qui la profondità esiste, però dov'è la chicca di questa foto? Nel fatto di aver nascosto una porzione della ringhiera, vedete? Io qui la interrompo, quindi a questo punto non c'è un proseguimento, come se l'occhio venisse interrotto da questa porzione qui e la foto, e io sono costretto a vedere la foto anche come disegno. Se ci fosse stata dalla ringhiera io avrei immaginato un percorso, così invece il percorso diventa improvvisamente in profondità, non è più il percorso che va verso sinistra, che porta l'occhio da questa parte. Quindi l'immagine è su due dimensioni e la terza dimensione che va verso il mare. Però c'è anche lo stesso discorso della panchina tagliata, del palo tagliato e della porta leggermente spostata. Qui c'è un taglio, c'è qualcosa che prosegue, io immagino che qui prosegue, immagino una scala qui, perché se questo scende qui ci sarà una scala. Ma la immagino non la vedo, non lo so se c'è, potrebbe non esserci, potrebbe essere un dipinto questo che io ho fotografato. Guardate per esempio questa, dove questi tagli hanno ancora una psicologia diversa. Allora qui l'immagine è giocata su dei pesi e dei volumi che apparentemente sono sbilanciati perché tutto il peso sta qui. Questo cielo terzo è leggero a livello di volume rispetto a questo. Ma che cos'è che bilancia l'immagine? Questi tre quadrati che rendono improvvisamente questa massa secondaria rispetto ai tre quadrati. A questo punto questa porzione di cielo e questi tre quadrati si bilanciano. Quindi un'immagine apparentemente semplice già comincia a diventare complessa. Ma andiamo nei dettagli. C'è questo palo che sembra un palo del gas metano, probabilmente, no? E quindi già cominciamo a vedere che c'è un percorso. Ma poi che c'è? C'è questa macchina che arriva, quindi noi immaginiamo una strada, questa macchina incorniciata che va da una parte. Quindi noi sappiamo che c'è una strada che passa qui. Quest'albero tagliato che sembra far parte in parte di un quadro, no? In parte del paesaggio. E di nuovo questo senso della profondità dettato non dalla dall'ottica ma dal modo come noi vediamo l'immagine. Vedete? Il triangolo, questo triangolo che combacia perfettamente con la casa bianca, questo palo. Vedete la sensazione che dà l'immagine nel momento in cui ci entriamo dentro? Cominciamo a percepire una profondità che a primo impatto non c'è e percepiamo un andare fuori dall'immagine che a primo impatto non c'è. Stesso discorso di prima. Questa è una delle mie preferite insieme all'altra. Perché qui questo tipo di discorso raggiunge il suo apice secondo me. Perché siamo proprio a un altissimo livello di fotografia. Perché abbiamo una griglia addirittura che interrompe, no? Quindi qui la bidimensionalità è ancora resa più forte. Però che cosa vediamo? C'è una bidimensionalità data da un reticolato, no? E quindi tutta l'immagine sembra questo reticolato. Poi che cosa c'è? La profondità è data da un buco improvviso con uno straccio che qui più che uno straccio è una forma che rompe questa geometria. Ma notate che c'è il triangolo della montagna di sabbia, di qualche cosa che probabilmente verrà costruito, che si contrappone ai triangoli di qualche cosa di già costruito dietro a quest'immagine. Questo sta in una profondità, no? In qualche cosa che deve arrivare. E questo è già arrivato. Notate poi come questa casa viene tagliata in modo che noi la immaginiamo all'esterno. Vedete pure qui? Capite quante implicazioni ci sono di erofoto di questo genere? Quindi quando guardate un autore di questo genere, fermatevi a guardare, a riflettere. Perché quello che sembra non è mai quello che è. E soprattutto un certo tipo di fotografia ha dato un passo in più alla fotografia, che prima era solo l'istantanea, il momento, diciamo l'atto del fotografo coraggioso. A un certo punto ti arrivano questi paesaggisti che oltre a descrivere un paesaggio descrivono un aspetto psicologico. Una terza dimensione, una profondità, una mistica della fotografia che fotografie di guerra raramente hanno, perché sono troppo esplicite. Queste sono foto dove c'è una domanda di fondo che uno si fa. Non è una domanda che richiede una risposta, è una domanda che apre a una profondità.